Ci chiede ancora la linea il nostro Fabio Angelicchio perché ci fa vedere una cosa di cui abbiamo tanto parlato. Eccolo qui, questo è il razzo che ha fatto la strage di Kramatorsk. E' il razzo con la scritta in russo. Eccolo qui. Zadeti. Eccola direttore, questo è il razzo, esattamente. Questo è il razzo, c'è anche una scritta lì con la vernice bianca, ma questo è il razzo che si è schiantato qui, naturalmente con l'esplosione che puoi immaginare. Siamo a circa 80-90 metri dall'ingresso della stazione che vi abbiamo fatto vedere prima. Chiedo all'operatore se può girare intorno, così vi mostriamo completamente i resti del missile. Ci hanno portato qui i militari, in realtà, a farcelo vedere. Ci hanno detto, eccolo qui, è dove è caduto il missile. Ecco, potete vedere questi rottami, sono immagini incredibili che vi stiamo mostrando, naturalmente, in questo scenario che è davvero terrificante. È completamente al buio vedere i rottami di questo missile che si è schiantato qui, prima di, appunto, poi creare quello che ha creato la strage di 50 persone, oltre 100 feriti. Eccole qui, le immagini del missile. Bisognerà poi capire perché c'è un rimbalzo di responsabilità tra ucraini e russi di chi fosse questo missile, se fosse in dotazione o meno alle forze armate ucranie o a quelle russe che in realtà lo hanno dismesso già dal 2020, così hanno detto. Quindi poi bisognerà appurare. Certamente questo è uno dei due missili che ha provocato quella strage di 50 persone. Erano persone civili che stavano cercando di scappare dal Donbass, dove si aspetta nelle prossime ore una massiccia offensiva da parte delle forze armate russe. A te, direttore. Grazie, grazie. Bravo Angelicchio. Abbiamo visto, bravo non perché c'è il missile, sono cose terribili, ma questa è la documentazione che servirà poi a chi sta discettando da questa mattina sulle responsabilità e su chi sia stato davvero a lanciare questo ordigno attraverso i numeri di fabbricazione e anche la scritta, di capire davvero qualcosa di più riguardo. Vedete, quello che vedete qui è questo alettone di cui si parla, che è appunto soltanto di questa tipologia di missile che fa quindi, e lo vedete anche sopra, fa quindi completamente decadere l'ipotesi che fosse un missile solo russo, l'Iskander. Ed è soltanto questo missile che è di fabbricazione russa ma che è stato dismesso dall'armata russa e che è usata invece dagli ucraini. Però c'è una scritta, obiettivamente c'è una scritta in cirillico con parole in russo che quindi potrebbero voler dire appunto che si tratta di un missile lanciato dai russi. Però abbiamo già detto tanto a questo riguardo, spetterà adesso a chi indagherà di sapere è tutta la verità, perché ci sarà chi potrà dire l'hanno scritto in russo perché leggessero i russi, che chi si vuole vendicare. Quindi sarà un ginepraio senza fine, uno scambio di accuse senza fine, fino a che non si arriverà ovviamente a una verità scientifica, una verità investigativa inoppugnabile.